benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati con panamerica la serie che ha come obiettivo l'unione di tutti i popoli americani sotto il nome del panama e devo dire che siamo anche molto vicini bene ho fatto un piccolo esperimento off camera e già possiamo annettere il nostro amico canada con un ultimatum ma non lo faremo voglio sconfiggerli in modo normale però questo video nel mentre ci iniziamo a portare avanti inizia con una parola rivoluzione cosa intendo dire che ho in mente tante piccole rivolte scusate rivolte rivoluzioni per il canale ho intenzione di cambiare un po tutto un po tutto sempre restando inerenti a age ho intenzione di migliorare la guerra degli iscritti come formato e come idea per questo ci sto già lavorando con uno di voi per renderla ancora più speciale poi oltre questo sto cercando anche di migliorare il server discord perché effettivamente non siete molto propensi a entrarci e avete anche ragione soprattutto perché magari per alcuni il server si sarà un po inattivizzato con l'estate ma stiamo lavorando tanto per voi mentre tutto il server discord riposa io e altri ragazzi ci stiamo mettendo di buona lena per evitare che l'inverno o l'autunno siano effettivamente come l'estate a proposito il canada ci ha già tolto un po di truppe dicevamo le riforme serviranno a rendere tutto molto più bello tutto migliore proveremo nuovi giochi sul canale se vorrete perché stiamo facendo dei sondaggi direttamente da discord per decidere non lo sto facendo per togliervi potere o diritto di esprimervi o qualunque altra cosa semplicemente mi viene molto meglio parlare su discord che su youtube perché youtube impone molti limiti mentre parlare fluentemente è più facile su discord appunto per questo anche vi consiglio di entrarci non è un mio interesse personale non mi pagano se voi c'entrate semplicemente è il modo migliore che abbiamo per comunicare quindi credo dovreste installarvelo comunque installarvi discord non è difficile dovete semplicemente andare sul play store quindi non dovete scaricare niente da google da internet in generale e scrivere discord poi non avete bisogno necessariamente di mettere il vostro numero di telefono l'applicazione non lo richiede tutto è totalmente gratuito quindi può soltanto che convenirvi credo ma magari qualcuno non si sentirà di joinare discord e allora gli voglio dare dei consigli siamo una community di 300 persone ormai su discord contro vabbè i 1800 che siamo su youtube quasi quasi 2000 in effetti però c'è un sacco di gente attiva e stiamo facendo degli eventi esclusivi anche degli eventi che non sono i semplici eventi con bot stiamo facendo organizzando podcast stiamo organizzando chiacchierate stiamo facendo il possibile e l'impossibile per rendere la vostra esperienza ancora migliore per questo mi piace insistere tanto perché vorrei che questi benefici li possiate sentire anche voi e possiate effettivamente godere anche voi di ciò che abbiamo da offrirvi su discord bene mentre stiamo avendo alcune perdite in alcuni fronti stiamo anche lavorando bene contro il canada anche se potrei già annetterli nel caro vecchio modo ma non lo farò proseguiamo qua quindi lungo questa linea per privare il canada di ogni truppa rimasta così e nel frattempo continuiamo a giocare dicevo potrà sembrarvi stupido ma entrare su discord probabilmente sarà meglio di vedere i video su youtube anche perché effettivamente pan america è una serie che mi ha suggerito uno di voi centesimo membro ufficiale così si chiama su discord perché è stato lui la centesima persona a entrare nel server il centesimo membro umano quindi non bot ad entrare nel gioco nelle server scusate quindi magari volete suggerirmi qualche bella serie fatelo lì su discord cioè non è che non vi prendo su youtube perché non vi voglio prendere ma perché viene male mentre su discord abbiamo le chat private dove ci possiamo confrontare anche di numerose idee per esempio su che scenario giocare su che è stato partire a che difficoltà giocare quindi tutto ciò non come potete immaginare non sarebbe fattibile su youtube perciò mi sento di insistere per questo motivo qua comunque vabbè se non entrerete mi può un po' so un po' dispiacere ma non posso certo costringervi però vi devo dire che vi perdereste una cosa importante il poter partecipare alla terza guerra degli iscritti questa esigenza di farla su discord nasce anche dal fatto che molti degli iscritti che mi seguivano da tantissimo tempo si sono un pochino lamentati possiamo dire che chi era su discord e se era scaricato l'applicazione e mi seguiva da più tempo veniva magari sorpassato da chi si era iscritto da poco e quindi mi pareva giusto dargli almeno un'occasione che per carità faremo altri video inerenti a youtube non è che adesso chi non ha discord non può seguirmi e non può essere parte del progetto però mi sembrava giusto nei confronti dei ragazzi che mi seguono renderli partecipi di questa esperienza comunque sia per questa terza guerra degli iscritti molti si stanno joinando a questo grande mondo appunto quello della community su un altro social ovvero discord e quindi voglio dare qualche piccolo dettaglio a loro se state guardando questo video è importante perché potrete acquisire molti dettagli importanti ciò che vi voglio dire semplicemente è ancora noi abbiamo deciso lo scenario perché vogliamo che partecipiate tutti quindi non dirò solo alcuni di voi potranno solo chi vorrà parteciperà e quando dico solo chi vorrà intendo che se volete potrete partecipare tutti nessuno escluso poi se non volete partecipare pazienza anche se già devo dire ho raccolto tante adesioni quindi paura di restare senza follower che mi seguono su questa guerra non ce n'è molto bene cos'è rimasto del canada prendo qua e vado qua comunque rimasto un piccolo nulla nel canada perfetto facciamo così ciò che resta del canada è questo territorio qua sopra poi questo territorio qua manca almeno un altro turno per prendere tutto il canada più queste isolette anche perché mancano due territori ancora per prendere tutto il canada bene e poi per il resto cos'altro lo dobbiamo fare giusto con questo il canada rimane con 12 truppe il canada lì risulta vittorioso molto bene come vedete da questa mappa sta scomparendo in fretta guardate qua anche se la un pochino allaggare ci stiamo riuscendo al canada mancano soltanto alcune truppe molto poche queste truppe però dovranno prendere l'ultimo isolotto fatto ciò avremmo finito effettivamente la serie perché non rimarrà più alcun nemico ultima provincia del canada presa questa era la mia sedia 343 stelline del canada passano tutte sotto la mia giurisdizione e ora è il momento finale di fare incontrare tutti gli eserciti a Siracusa che poi lo so vabbè non è Siracusa Siracusa però facciamo finta che lo sia curioso ci sia una città con Siracusa nel nome non credete vabbè stranezze a parte vediamo quanti altri eserciti dobbiamo fare prendiamo queste 3000 e le portiamo in capitale uh è sorta una maxi ribellione qua vedo vabbè sediamola subito che vi devo dire anche se questo complica un pochino le cose perché perdiamo più tempo perfetto vabbè in canada le ribellioni non vogliono proprio fermarsi vabbè eeeh dovremmo aspettare un attimino anche perché le isolette minori stanno iniziando a cadere beh approfittiamo delle monete rimaste per assimilare a GoGo anche se ancora abbiamo degli eserciti un pochino rompimento perfetto tipo questa questi ribelli qua che non hanno ancora voluto capire che si devono levare dal mezzo perfetto quanti eserciti sono rimasti? un pochettino ecco qua tipo voi 504 dovreste tornare a Siracusa oppure ancora voi per essere precisi voi anche dovreste tornare purtroppo finché ci sono queste ribellioni non posso far tornare a casa tutte le truppe perché effettivamente mi servono però intanto iniziamo a dirigerle verso Siracusa e mentre però con i punti che restano dobbiamo assimilare perché se no rischiamo di far collassare il paese i ribelli dopo questo turno ci salutano qua riuniamo le truppe così consumano meno spazio già vedo tristemente un'altra rivolta all'orizzonte vabbè finché una sola provincia si può fermare senza problemi poi quante unità mancano ancora che non sono tornate 1030 qua muoviti a Siracusa 15761 muoviti a Siracusa isoletta deserta muoviti a Siracusa altra isoletta deserta dov'è? no qua eccone un'altra muoviti a Siracusa un altro territorio ricolmo di truppe muoviti a Siracusa e l'ultima isoletta muoviti a Siracusa adesso ci sarà soltanto da assimilare tutto questo macello che devo dire un bel po' ma iniziamo subito a lavorare sorge un'altra ribellione vedo qua e va bene eeeh 571 poliziotti volontari li sconfiggeranno tutti così e a Rosò faranno lo stesso attenzione perché così non è stato quindi credo proprio che dovrò chiedere un aiutino qua molto bene e un'altra ribellione è sorta vicino Siracusa sarà il caso di mobilitare l'esercitone per sconfiggere questa ribellione e a quanto pare ragazzi vogliono davvero darci fastidio noi continueremo per sempre ad assimilarli tutti finché effettivamente non ne rimarranno zero però ci stanno iniziando a spuggire di mano andiamo ad Augusta che è una città siciliana in provincia di Siracusa molto bene e con questo la ribellione è finita ovviamente abbiamo vinto neanche a dirlo beh quante truppe sono rimaste? 183.000 diciamo che a questo paese è un pochino a corto di uomini continuiamo però ad assimilare così evitiamo altri problemi di questo genere tipo Bangor ancora non viene assimilata non ditemi che abbiamo già finito ah no appunto ancora ci sono parecchie civiltà che non sono state assimilate sono anche finiti i soldi vedo eeeh in questi casi per evitare problemi si fa una certa cosa diplomazia intanto tipo questi popolini qua li possiamo anche elevare dal mezzo cioè dai chi resta ancora? rimane un'isoletta non dimentichiamoci che resta un'isoletta o non potremmo essere Panamerica cara Alaska perfetto tutti i territori apparentemente fanno parte dello stesso impero tutti tranne San Piero e Michelon io vi dirò dammi la tua provincia oppure 309 truppe ti invaderanno oh hanno rifiutato bene e allora facciamo così ti invaderanno 2700 ti invaderanno aspetta un po' di più dai giochiamoci 928 unità ti invaderanno eeeh voglio dire 6500 oh sono crollati così in fretta che tristezza bene arrivati a questo punto si fa super debitone doppio che ci servirà ad assimilare tutto in tempi brevi perché non voglio perdere tempo di sicuro così e ora passiamo a questi altri territori che è già finiti di già forse tutto l'esercito è a Siracusa come può essere boh vabbè in tutto il in tutto il Panamerica nome di questa terra nome di questa landa il Panamerica finalmente come ogni continente vincente torna rosso è riuscito ad annettere l'intera America e adesso visto che non abbiamo altro da fare salviamo per l'ultima volta il gioco il paese resterà un po' di assimilato ma pazienza arrendiamoci andiamoci a gustare il percorso di Panamerica un piccolo staterello di quattro province che ha osato sfidare le grandi nazioni annettendole una dietro l'altra come vedete da questa mappa per cento turni siamo stati niente o quasi poi con fatica abbiamo invaso parte buona parte del dei territori vicini per poi prendere un'isoletta a caso un po' di isolette a caso in realtà che ci hanno dato una mano con il reddito dopo essere arrivati a 21 isole siamo andati un pochino a combatterne altre ma sempre a 21 rimaniamo ah giusto adesso tocca gli staterelli del mezzo ancora qui eravamo niente eravamo soltanto un piccolo staterello che Colombia avrebbe potuto scusate Venezuela avrebbe potuto sconfiggere in fretta già qua siamo 32 diventiamo un nemico per qualcuno più forte più scomodo 34 e già l'esercito è forte si deve andare da qualche altra parte per fermarli sì siamo già 42 e nel giro di pochi turni quei 42 diventeranno 44 ecco qua cosa vi dicevo poi diventano 46 con delle isolette 51 52 poi 52 diventano 53 in seguito lì nasce un piccolo scontro che ci fa arrivare a 62 perché l'Equador è scemo a causa della stupidità dell'Equador possiamo poi invadere Cuba è un'isoletta vicina e anche è Giamaica arrivati a quel punto il mondo esplode da solo c'è una confusione assurda hello ma perché sta succedendo tutto questo trambusto ah sì perché stanno combattendo vabbè ragazzi fate finta di niente fate finta che ciò che vedete non sta succedendo davvero mentre commentate con montagne russe se siete arrivati fino a questo punto del video che gioco ho buggato ai ai eeeh non guardate lo schermo chiudete gli occhi e facciamo un'esperienza magica avete chiuso tutti gli occhi bene che numero state pensando da una 10 pensatene uno io lo so molti di voi staranno pensando il 4 se ho sbagliato fatemi sapere nei commenti e ditemi che numero avete pensato volendo esagerare pensate a un numero da 1 a 100 diverso da 69 perché sennò è facile che numero avete pensato e perché proprio 38 no vabbè il mondo è continuato qua a impazzire quindi credo ci fermeremo a meno che non si sia fermato no ok basta ancora un altro turno lo prometto dai lasciamo stare il flashback perché non funziona eeeh arrivati a questo punto cosa c'è da fare nulla cioè non possiamo più prendere territori dobbiamo arrivare al turno 1500 preciso però eliminiamo le tasse dalle nostre genti portiamo tutte cose al 30% così e ora assistiamo insieme a come un paese nel giro di tre turni diventerà povero soprattutto dopo aver assimilato ancora altre due città al turno 1500 il canada e tutti i suoi amici sono tutti sotto la panamerica che devo dire ha stracciato tutti come sempre e va bene ragazzi questa serie finisce qui state pronti perché sta per arrivare una nuova serie sempre ideata da voi e anche questa sarà molto affascinante spero l'abbiate seguita con piacere anche se molti poi si stufano e smettono di seguire dopo i primi tre episodi se siete arrivati fino a qua commentate anche con eroi veri mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per seguire le novità lasciate tanti tantissimi piace passate dal server discord dal canale twitch e dal canale di Giuseppe Novelli autore della copertina di questo video detto ciò vi ho detto davvero tutto noi ci vediamo con un prossimo video e con una prossima serie